Gira per Mar, da Vorono a Federici e Orduna la tengono in campo in qualche modo Ferricicava, poi nessuno arriva per il secondo tocco e ma arriva la Gunzia Vado da Teppolanzo, poi Orduna a cercare la Gunzia, fermato dal muro Federici molto reattivo Federici ha fatto una cosa incredibile saltando sopra il proprio compagno Spuisberto li tiene questa palle, Sciccavo prova a spingerla, ancora Federici reattivo dopo il tocco di Orduna Ancora free ball per Milano, che questa volta va da Weber, Federici di nuovo va a terra, subito Poi Lanza contro il muro a due, Pippo Lanza, punto per Monza e adesso Monza sembra invalicabile difende tutto e riesce a mettere giù i punti E ancora quando va in difficoltà cerca la Gunzia, questa volta viene difeso il numero uno di Monza Poi Vazic fallisce il money out e allora ancora la Gunzia Si ostinano a voler ricevere, cosa fanno? La palla è in gioco, poi Sciccavo chiude comunque il punto, ma i giocatori di Milano si erano messi a festeggiare nonostante la palla sia rimasta in gioco Questa veramente è da rivedere perché anch'io ero un po' fuori, cosa ha fatto il libero? Federici grandissima palla Federici cosa ha preso, cosa è riuscito a tenere?